Sì, grazie, grazie Enrico, buon pomeriggio, grazie per la linea, dici bene, domani ci sarà questo importante incontro infrasettimanale al Bonolis tra il Teramo e Limolese, però la notizia del giorno, anzi di questo pomeriggio è l'ufficialità di Saveriano Infantino, giocatore di 32 anni, punta centrale in uscita dal Catanzaro che più tardi, intorno alle 17.30, verrà ufficialmente presentato in una conferenza stampa allo stadio Bonolis. Noi siamo, come dicevi tu, in compagnia del direttore sportivo del Teramo Sandro Federico che tra l'altro conosce molto bene Infantino perché lo ha avuto quando militava nella Carrarese e lo conosce anche il tecnico a genere Maurizzi perché era le sue dipendenze quando allenava l'Ischia. Un buon colpo? Sì, è una prima scelta, è un attaccante vero, un finalizzatore e quando l'abbiamo avuto sia io che il mister ha dato veramente dimostrazione di essere l'attaccante di categoria e quindi è l'attaccante che cercavamo un po' da tempo e finalmente siamo arrivati all'ufficializzazione. Lui era conosciuto anche in Abruzzo perché nella sua lunga militanza, ha tanti campionati tra C1 e C2 di questo calciatore, ha giocato in due stagioni diverse anche all'Aquila, quindi sicuramente gli sportivi abruzzesi ricorderanno le sue giocate. Sì, è un attaccante che in Lega Pro si conosce, quindi è un giocatore che può far saltare gli equilibri, ci serviva un finalizzatore perché abbiamo attaccanti di movimento, ragazzi giovani anche molto interessanti, ma Saveriano probabilmente è la punta di diamante che in qualche modo ci permette di fare il salto di qualità. Celli, Giorgi Sparacello, adesso Saveriano Infantino, termina qui il vostro mercato Federico? No, dobbiamo fare qualche uscita e prendere un difensore centrale che possa essere un'alternativa ai nostri ragazzi. Infantino che sarà subito disponibile per la gara di domani? Sì, ci dovremmo essere, non ci dovrebbero essere problemi. Ecco, l'ultima proprio sulla gara contro l'Imolese, ore 20.30 allo stadio Bonolis, Imolese che viene dal pocherissimo in casa contro la Gianna Erminio, la formazione è salita tra l'altro al quarto posto, quindi viaggia nei quartieri alti. Il Teramo invece è reduce da questa cocente sconfitta per 2 a 1 in rimonta tra l'altro da parte della San Benedettese, insomma dovete tornare a far punti ad ogni costo senza guardare all'avversario che avete di fronte. Sì, in casa riusciamo ad esprimere un buon calcio contro qualsiasi avversario, anzi, con quelle più forti abbiamo anche dato l'idea di essere anche superiori a queste squadre. Quindi l'Imolese che viene da un periodo positivo, squadra con una grande organizzazione, hanno perso pochissimo e quindi è una partita da prendere con le molle, è una partita difficile. Però dobbiamo assolutamente portare a casa perché dobbiamo riprenderci i punti persi a San Benedetto. Davvero l'ultima Federico, mancherà sicuramente il capitano Speranza, però mancherà anche a centrocampo Persia perché è stato ammonito nell'ultima partita, era diffidato. Quindi spazio probabilmente sin dal primo minuto a Giorgi, anche lui nuovo acquisto. Sì, il mister sta facendo delle valutazioni, insomma abbiamo delle alternative, c'è anche Spighi, quindi vedremo anche in base alle caratteristiche dell'avversario. Giorgi probabilmente ancora non ha i 90 minuti nelle gambe, ma è un giocatore così importante che per noi diventa importante anche per 60-70 minuti. Grazie, grazie al direttore sportivo del Teramo Sandro Federico, grazie anche ad Andrea Berardinelli per la parte tecnica, la linea può tornare allo studio. Ecco, ci sei ancora perché tu hai giustamente detto che Sandro Federico, non so se non mi senti? No, non abbiamo più Paolo Durano. Adesso gli do l'auricolare, ho dato l'auricolare a Sandro. Perfetto, sì, perché io avevo una curiosità. Ciao Sandro, ben ritrovato. Avevo una curiosità per Sandro Federico sulla scelta di Saveriano Infantino. A questo punto avete preso un giocatore molto molto importante per la categoria. È chiaro che la classifica è abbastanza lunga, ma vi ponete anche qualche obiettivo diverso da una salvezza tranquilla, perché Infantino è un giocatore, io mi ricordo ad esempio il campionato vinto con l'Aquila, segnando proprio il gol decisivo a Teramo in quella finale play-off. Infantino è un giocatore importante, Giorgi è un giocatore di categoria superiore a questo punto. Avete un po' di ritardo dalla colonna di sinistra della classifica, ma l'obiettivo potrebbe essere quello? È normale che adesso dobbiamo essere più che concentrati sull'obiettivo della salvezza. Raggiungere il traguardo dei 40-42 punti e poi faremo altre considerazioni. Ma in questo momento dobbiamo star calmi, tranquilli e già dalla prossima partita di domani sera dobbiamo portare a casa il massimo. Concentriamoci per adesso sulla salvezza, poi vedremo. Perfetto, grazie Sandro Federico, grazie a Paolo Durante. Grazie a tutti.